Musica Ciao a tutti ragazzi io sono MerloCraft E noi siamo qui in un nuovo episodio del nostro let's play montato FUSH Allora Siamo qui in questo mondo Io sono qui in questo mondo dopo un sacco di tempo Ragazzi in realtà vado a dormire perché questa pioggia mi sta facendo laggare leggermente ma Sono qui dopo un sacchissimo di tempo Penso che l'ultima volta in cui sono entrato in questo mondo è stata 2-3 mesi fa Perché come sapete ho avuto problemi scolastici eccetera Ho dovuto sbettere anche di fare youtube per un po' Però gli episodi che vi ho caricato recentemente del let's play Erano stati registrati in precedenza Quindi anche quelli che vedete Che avete visto più o meno fino al 13-14 Fino a quello dove abbiamo settato i query Sono registrati due mesi fa Avete sentito il me di due mesi fa per un bel po' di tempo Ma ora siamo tornati Questo oggi è il 29 giugno Quindi siamo pronti per roll Probabilmente voi vedrete questo video Intorno al 5-6 luglio Eeey Haa scripted Questo è un mio amico finlandese che fa Che si Hello bitch Ok Allora 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 Wait a second Allora Siamo qui Abbiamo rischiato che questa serie finisse ragazzi Ve lo giuro Questa serie ha rischiato di collassare Di finire Perché? Perché Allora Non so se vi ricordate Intanto ho aggiornato il pacchetto all'ultima versione E probabilmente è questo che è questo che è il problema Forse vi ricordate Questo simpatico signore qua E la Mistcraft Che c'è su di sopra Insomma questa cosa qui che abbiamo fatto Per creare il nostro mondo per i query Ecco Io sono entrato in quel mondo di nuovo Per vedere com'era Perché non me lo ricordavo più dopo due mesi Stavo un po' ricordando cosa avevo fatto E laggava talmente tanto il mondo Che non riuscivo a uscirne Ero bloccato in quella dimensione E non c'era modo di uscirne Ho chiesto a un amico anche a XY7 XY7 Non so che cazzo si pronuncia E per vedere se riusciva a uscirne lui Col suo pc Nulla Non c'era Veramente nulla da fare E avevo pensato di cominciare un nuovo stagione Fare un po' tutto veloce Off camera E poi Ritornare al punto dove eravamo Insomma Però era un po' Insomma brutto Per fortuna Mi è venuto in mente All'ultimo momento Stavo giuro per cominciare a registrare Il no Questo è assimilio Stavo per cominciare a registrare la nuova stagione Mi è venuto in mente Sapete Ups Sapete quando si fanno gli aggiornamenti Dell Dell'FTB Ecco io avevo appena fatto un aggiornamento Prima di entrare nel mondo E mi è venuto in mente Quando si fa l'aggiornamento Ti chiede Backup saves Punto di domanda Io lo metto sempre Perché non si sa mai E per fortuna Per quello Mi aveva fatto un backup Del salvataggio E quindi ho Semplicemente preso il backup E si Siamo di nuovo qua Però se non mi fosse venuto in mente Che avevamo fatto Quel backup Penso che il mondo Sarebbe andato veramente A bruttane E si L'abbiamo rischiata ragazzi Comunque ora siamo qui Siamo pronti Carichi Per cominciare Con questo Console Splay Che il resto Io dal 5 al 12 Sarò via Poi Probabilmente ve lo dirò anche In un video Ma dal 5 al 12 Sarò via Quindi Non so se riesco a Precaricare i video Per farli uscire Dal tampeggio Quando voglio Però comunque Sì GG Siamo qui Cosa voglio fare Oggi Intanto voglio farvi vedere Che il query Che abbiamo sentato Nello scorso episodio Che se non ricordo male Perché l'episodio L'ho registrato Due mesi fa Non funzionava Adesso funziona Benissimo E se Adesso qui Non c'è nulla Che cuoce Ma ad ogni modo Posso andare A farvi vedere Velocemente Ok Siamo qui Qui al nostro query E C'era un po' di cobblestone Come potete vedere Allora ho dovuto fare Un po' di Cose Per farlo funzionare Perché Adesso vi spiego Praticamente Vedete intanto Vediamo Quanti blocchi ha fatto 50.000 blocchi E Tutti i materiali Erano rimasti Nella chest Perché Allora Intanto ho scoperto Che da questo query L'item duct Non funziona Non può tirare fuori oggetti Ma il transfer node Sì Quindi ho dovuto mettere Un transfer node Però il transfer node Non può entrare Nel testrack Quindi ho dovuto fare Una chest E poi la chest Prendere E mettere Nel testrack Solo che La cobblestone Prendeva solo la cobblestone Il tubo Insomma Questo E i materiali Rimanevano qua Perché c'era troppo a cobblestone Allora ho fatto Un tubo Questo Che può prendere tutto Mentre un tubo Questo dedicato Solo a tutto Quello che non è cobblestone Così se ci sarà Delle cose in più Tipo il carbone Questo l'avrà preso Questo tubo Invece che questo E quindi Sì Più o meno tutto Sta funzionando Per il meglio E abbiamo i nostri materiali Siccome ora abbiamo I materiali Volevo cominciare Con una mod magica Nuova E questa mod magica Signori È la towncraft Quindi Spacchiamo quest'albero Perché ci servirà Già che lo vedo Vediamo se Posso farlo tutto In un colpo con questa ascia Yes Yes E ci vediamo Fra Un attimo Ok Quindi la prima cosa Che dovremmo fare Per cominciare con la towncraft Che è una mod magica Appunto È una mod magica Per eccellenza È una delle mod magiche Che mi piace di più Sarà appunto Come in ogni mod magica Crearci i nostri primi strumenti Quindi ecco a voi Pam pam Con due iron cap Poi li facciamo così Uno stick in mezzo Ed ecco a voi La nostra bacchetta magica Questa è la nostra Prima bacchetta magica La più basica Insomma la più basilare E non può fare nulla Ora Tranne che Crearci una bookshelf Come questa Anche se l'abbiamo già È Questo Il nostro libro Che sto a profare ora Lo abbiamo già Credo No non l'abbiamo già Forse mi confondo Con un altro mondo Comunque Pum Ed ecco qua Questo libro Che è La nostra guida Alla towncraft E queste sono le due cose Più basilari Ci servirà inoltre Un Taum Mo Meter Ziuvo Pum Eccolo qui E poi Queste sono le cose Più basiche Ci servono Fum Ora cosa dobbiamo fare Per cominciare con la towncraft Se vi ricordate il mio primo episodio Del wiki mod sulla towncraft Che dovrei aver fatto Sì 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 L'ho fatto Però Allora sì I secondi episodi E tutte le cose Usciranno a breve Ad ogni modo La wiki mod Ricomincerà Comunque bisogna Scannerizzare Degli oggetti Per scoprire Degli aspetti Perché ogni blocco Ognuno di questi blocchi È formato da degli aspetti Aspects of magic Che sono questi qua Ci sono i sei più basi Che sono questo Aria, acqua, anghis, ordo Perdito e terra E poi ognuno di questi Oltre a comporre degli oggetti Nel mondo Come per esempio L'acqua Che vado subito a farvi vedere È formata ovviamente Dall'aspetto dell'acqua La prossima hai detto Magix Vedete È formata dall'aspetto dell'acqua E quattro Per precisione Ci sono cose come le torce Che sono formate da Lux Che è un oggetto Un aspetto nuovo E come vedete È formato da Air più Ignis Allora Questa è una delle cose Più base Che farò off camera Quindi scoprire nuovi aspetti Eccetera Ma per adesso Che siamo on camera Creiamo dei table Quindi andiamo a cercarli Dei table Della towncraft Eccoli qui Table Diciamo così Creiamo uno, due, tre E andiamo a creare anche Degli scribing tools Se possiamo Boom Possiamo Ci manca una bottiglia di vetro E non abbiamo Cosa? Non abbiamo vetro? Allarme 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 Non abbiamo sabbia Pausa 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 Devo sentare un cobleworks Però sì Intanto andiamo a prendere Cosa sei? Che cazzo sei? Oh mio dio Oh fuck Oh fuck Andiamo a prendere della sabbia Fortunatamente so dove prenderne E Sì Possiamo cuocerla E tutto a posto Vediamo intanto se abbiamo dei materiali Che stanno cuocendo qui dentro Sì Sembra che abbiamo del tin Del tin E basta Beh GG Allora saliamo Andiamo a cuocere la nostra Sabbia E Be right back Intanto possiamo settare la nostra Area towncraftosa Che pensavo di fare qui Per il momento Perché ci servirà un bel po' di spazio Quindi poi forse Anzi Quasi sicuramente Mi muoverò fuori E creerò un altro edificio Probabilmente qui intorno Per Dedicato esclusivamente alla towncraft Perché lo spazio che ci serve È veramente molto Ma per intanto Direi che possiamo cominciare a farla qui Quindi facciamo così E così E questo facciamo così E creiamo il nostro Arcane work table Nice Poi prendiamo la sabbia Vetro Scusate E andiamo qui sotto Facciamo così Bam E possiamo creare Del Scribing tools Ok Perfetto Un cazzo Perfetto Ok E ne creiamo due Dopo vi spiegherò perché Questi saranno quelli Che noi lasceremo Qui dentro Boom Mentre questi saranno quelli Che ci terremo sempre Nell'eventario Perché ci serviranno Anche un po' Nell'eventario E adesso io comincerò A unire degli aspetti qua Per scoprire dei nuovi Che sono rari E poi con questi aspetti Già scoperti Possiamo andare A scoprirmi degli altri Come per esempio Questo O come per esempio Questo No Per esempio Questo Boom Ne abbiamo scoperti Tantissimi altri E si Scannerizzerò Scannerizzerò Un po' Tutte le cose Che trovo Qui in giro E Will be right back Non appena Abbiamo un po' Di cose scannerizzate Sia Ok ragazzi Siamo tornati Ed abbiamo Ho scoperto Un bel po' Di aspetti Direi una trentina In tutto In ogni modo Sì 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 Una volta Che riusciamo A trovare Quello con gli Ingranaggi Che è macchina Praticamente Il resto è tutto Regalato Perché Tengono un sacco Di altri Allora Vediamo Questo è Questa è Nuova Piuma Ok La glowstone Queste sono cose Cisle Quindi non possiamo Scannerizzarle Ho scoperto che la Cisle non funziona Però Vabbè Allora Ora cominciamo Ci servirà Per continuare Della carta Ed è per questo Che probabilmente Metterò Farò una Sugarcane farm A breve Ad ogni modo Papera Prendiamone una Quante canne Canne abbiamo Che in 10 Quindi facciamo Un po' di carta In più Metterò 4 Per fare una farm Perfetto E con questi E con della carta E degli scribing tools In mano Così E poi apriamo Il nostro Taumonomicom Possiamo scegliere La ricerca Che vogliamo fare Quindi la prossima Cosa che vogliamo Sbloccare Intanto io farò Questi due Che sono delle cose Che mi facilizzano Molto il processo Delle altre ricerche Cliccare E vedete che Mi aggiungerà La nota Qui Possiamo metterla Qua Ed ora Ricercheremo Questa sarà Una cosa Che farò Off camera Però Intanto Io farò La prima Cosa Ve la farò Vedere Anche a un camera Insomma Adesso dobbiamo Collegare Questi tre simboli Attraverso Mettendo insomma Degli aspetti Che li colleghino Ad esempio Sensus Che è quello Col gufo E ecco È fatto da Air E Spiritus E Spiritus Per esempio È formato Da Ho sbagliato Spiritus È formato Da Da Victus E Mortus Quindi abbiamo già Un collegamento Forse Perché No Non abbiamo Nessun collegamento Perfetto Però C'è l'altro Qui che Cognizio E Cognizio Dovrebbe essere Formato Sbaglio sempre Dovrebbe essere Formato da Ignis e Spiritus Quindi vedete che abbiamo Già un collegamento Con dello Spiritus Quindi possiamo fare Semplicemente Dov'è Spiritus Qui Possiamo fare Spiritus Vedete che si collega E qua I nostri cosi Prendono danno Spiritus Poi Possiamo fare E Qui anche Dello Spiritus E in mezzo Qualcosa che è formato Da due Spiritus Quindi vediamo Spiritus Che cosa è formato Che me lo sono già Dimenticato Spiritus È formato Da Victus E Mortus Quindi possiamo mettere In mezzo Semplicemente Un Victus E collegare Il tutto Qui Poi ci serve Per esempio Qualcosa Victus È formato Da Terra E acqua Giusto E vediamo Terra e acqua E vediamo Se c'è qualcosa Che è formato Da acqua E ordo Terra e ordo Non vedo nulla Purtroppo Vediamo Aspetta Allora Acqua E ordo E ordo Non credo Non credo Faccio nulla Mentre Terra e ordo Terra e ordo Dove è la terra? Terra e ordo Nemmeno Oh sì Sì ho visto Ho visto qualcosa Credo sia Vacuos Vediamo allora No ok Abbiamo terra e ordo Che è vitreus Quindi possiamo Prendere vitreus Metterlo qui E vedete che si collegherà No No allora ho sbagliato Ho sbagliato qualcosa Wait Dobbiamo mettere terra qua E si collegherà Victus E poi questo E si collegherà Tutto E abbiamo risparcato La nostra prima cosa E quindi adesso Possiamo fare così Così E boom Research expertise Completata Vedete che ora Si è sblocata E abbiamo più ricerche Più veloci Perché oltre a risparmiarci Un po' di aspetti Vedete che qua Ci fa vedere da cosa sono fatti Quindi non dovremmo aprire E chiudere il libro ogni volta Ora io farò anche Research master Master Ties E we'll be right back Et voilà Ecco l'ho fatto Abbiamo ricercato Boom E quindi adesso possiamo E vediamo Fori 50% Sono 10% chance Comunque ci sono Un bel po' di cose E in più possiamo fare Shift click Su qualcosa Dicevo shift Cliccando qualcosa Per esempio Vitium Vedete Ne creerò un altro Combinando gli aspetti Che ci mancano Ok Allora Ora che abbiamo questo La prossima cosa Che vorrei ricercare È qualcosa di più utile Allora Vorrei ricercare Il nighter Quindi Si sentiamo Quando la ricerca è fatta È stato molto difficile Lungo Ma per fortuna Ce l'abbiamo fatta Non so neanche io come Ma boom Ricerca più easy ever E adesso creeremo Un'altra cosa Che ci servirà Più avanti Quindi facciamo così Facciamo così Per il momento Poi Toglierò Ci serve Una fonte di calore E noi sappiamo Dove trovarla Vero? Quindi andiamo a prendere Un secchio Un buco Un secchio Eccolo qua E poi prendiamo Della lava Paff Ok Dopodiché La mettiamo qui Ah Però questo potrebbe Bruciarsi Quindi si Devo fare abbastanza In fretta Allora Intanto Craftiamo il resto Quindi prendiamo Un crucible Dobbiamo craftare Un calderone Insomma ragazzi Quindi Prendiamo Un calderone Vanilla Un semplicissimo Calderone Vanilla Pam Poi prendiamo Un altro secchio Perché ci servirà E impariamo A craftare Con il calderone Allora Intanto Prendiamo Dell'acqua Dopodiché Piazziamo Il nostro Calderone Vanilla Boom Prendiamo La nostra Super Bacchetta Magica Possiamo diventare Un crucible Dopodiché Lo riempiamo D'acqua E voilà Adesso Dobbiamo farla Bollire Poi metteremo Sotto La lava Ad ogni modo Come funziona Andiamo a vedere La recipe Per il Nitor Eccolo qui Serviamo Tre Innist Tre Lux E tre Potenzia Per creare Un Nitor Quindi dobbiamo Cercare degli oggetti Che diano Tre Innist Tre Lux E tre Potenzia Allora Io so Per mia fortuna Che il carbone Del quale abbiamo 1700 E se adesso Lo scannerizzo Ecco appunto Ci dà Due Lux E due Innist E due Potenzia Quindi se noi facciamo così Ne abbiamo sei Che è necessario Per creare Due Nitor E poi prendiamo Sei Torce E abbiamo Necessario Per creare Due Nitor Ci serviranno Solo due Glowstone Dust E siamo a posto Ora Mettiamo la lava Sotto il calderone Facciamo tutto Molto in fretta Mi raccomando Allora Facciamo così Aspettiamo Aspettiamo che L'acqua bolla Bollisca Vediamo Quando fa le bollicine Non fa le bollicine Perfetto Ecco adesso fa le bollicine Quindi mettiamo Velocemente Questo e questo E vediamo adesso Che abbiamo E Non possiamo Verla Perfetto Ci sta E poi mettiamo comunque Queste due dentro Vedete che abbiamo ottenuto Del Nitor Due Ecco perfetto Possiamo togliere La lava E questo Nitor E' una fonte Di calore Buonissima Quindi noi possiamo Semplicemente Fare così Tanto è bellissimo Da vedere Puff E questa è una fonte Di calore Per il nostro calderone Quindi possiamo Può star lì Tranquillo e veato E senza bruciare Nulla E l'altro lo metterò qua Perché è bello Allora Abbiamo un po' Imparato come funzionano I basi della Towncraft Ora direi di Craftarci Qualcos'altro L'interessante Quindi farò Qualche altra ricerca E ci sentiamo Quando ho fatto Qualcosa Perfetto ragazzi Ho appena ricercato Le Google Software Revealing Quindi perché Non andiamo a craftarle Allora Che cosa sono? Sono degli speciali Occhiali Che ci faranno vedere Tutto quello che c'è Nel mondo Di questa mod Che è abbastanza Nascosto Quindi Diciamo così Vediamo come si Crafta il ladder Ci serviranno due Taumometer Intanto quindi Craftiamone Due WTF Ok Taumometers Uno Due Dopodiché ci servirà Del ladder E del gold Allora vediamo Ciò del ladder Non sono sicuro Uno Quindi andiamo a farne altro E poi facciamo Del gold Gold Uno Due Easy Enough Andiamo fuori Facciamo Della Rotten Della ladder Scusate Quindi Andiamo Qui alla nostra Mana pool Che il resto È piena Quindi GG E facciamo Un po' Di ladder Poi torniamo In casa Andiamo qui E craftiamoci Questa cosa Allora Bam 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 O non possiamo Perché ci servono Degli aspetti Quindi mettiamo La nostra bacchetta magica Che deve contenere Degli aspetti Infatti non ci sono Per adesso Quindi andiamo a prenderli E come si fa A prenderli? Semplice Nel mondo Potremmo trovare Adesso andiamo A cercarne qualcuno Degli aura node Eccone lì uno Eccone lì uno Questi simbatici creature Hanno degli aspetti A suo interno Vedete che per esempio Questo è dell'air Quindi prendiamola E vedete Sopra Nell'angolo In alto A sinistra Dello schermo Che ho caricato La mia air Completamente E qui abbiamo Ancora delle cose Cerchiamone Altri Qui c'è un altro Subito Luca da fortuna Questo ha Perditio E terra Quindi stiamo caricando Perditio E terra Al momento Occhio a non Finirli Questo per esempio Poca terra Devo stare attento E ne abbiamo ancora Quattro Quindi tre Due Uno Ok perfetto Questo intanto Posta qui a ricaricarsi E dobbiamo cercare Degli altri aura node Che abbiano gli altri aspetti Quindi acqua Ignis Acqua Ignis Serve Quindi carichiamoci Di ordo Un po' Dov'è Il nodo Eccolo qui Boom 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 Vediamo quanto ne abbiamo lasciato Ancora i 23 Possiamo fare chi che vogliamo Oh Cazzo Ups 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 E si Questo nodo Ancora un bel po' Di ordo Quindi se ci mancano Soltanto Ignis E acqua Allora Ignis sono molto facili da trovare Nel nether Praticamente tutti i nodi del nether Sono ignis Mentre l'ordo E l'acqua Scusate Andiamo a cercarlo Quindi yes Ci troviamo fra un poco Ok ragazzi Siamo qui sopra un fiume E ho trovato questo nodo Che è pauroso Perché ha Ignis Acqua E ha I quattro aspetti Della natura Tra virgolette Quindi succhiamolo E poi metterò dei waypoint Dove sono i nodi D'ognodo stiamo attenti A non farlo finire Vediamo quanto ha Ok abbiamo finito l'acqua Stiamo per finire anche il coso Quindi yes Torniamo a casa Felici E contenti Uh Qui c'è anche un obelisco Della towncraft ragazzi Via dalle palle Allora vediamo Intanto scannerizziamolo Dobbiamo studiare darkness Boom E mi sa che l'abbiamo trovata Esatto Guardate abbiamo trovato Un sinister node Questo è una cosa Abbastanza Insomma qui dentro C'è un nodo Sinister Che non so cosa faccia Ma è sinister Ed eccoci qua Siamo at home At home Ma merda Ok siamo a casa E possiamo craftare Finalmente le nostre Goggles Software revealing Yes E la nostra bacchetta Possiamo lasciarla qui dentro Ed ora possiamo vedere Gli aura node Anche senza L'aiuto del thermometer E qualche altro bonus Ad ogni modo Questa è la towncraft Questo è un po' Quello che faremo Per i prossimi episodi Per questo episodio Però è tutto Qui abbiamo un altro Ah degli aspetti nuovi Nel prossimo episodio E vi farò vedere Altre cose Della towncraft Ops Vabbè Ricercheremo questa cosa Che ho cliccato per sbaglio E poi Vedete queste cose qua Possiamo ricercarle Semplicemente pagando Dei punti Quelle esagonali Quindi cercherò Di ricercarle Più o meno tutte E poi cercherò Di arrivare Alla ricerca Del node In a jar Ovvero la ricerca Che ci farà Spostare Gli aura node In giro Per il mondo Come vogliamo noi Quindi se Tom of Fallen sharing Smoky quartz Spell binding cloth Nulla Di troppo interessante Per ora Ad ogni modo Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio Per la visione Vi rimando Il prossimo video Che caricherò Grazie Sì